Dopo finalmente l'arrivo della neve ora però occhio al ghiaccio. L'inverno rivuole il suo posto e nella giornata di ieri tutto l'Abruzzo è stato interessato da abbondanti precipitazioni nevose anche a bassa quota, piocce e mareggiate. Diversi comuni hanno deciso di chiudere le scuole per motivi di sicurezza. Ma cosa dobbiamo aspettarci nei prossimi giorni? Secondo il tecnico meteorologo Giovanni De Palma, dopo una brevissima tregua già da stasera e per le giornate di domani, lunedì e martedì, sarà ancora presente aria fredda sull'Italia che favorirà annuvolamenti e precipitazioni con neve da 500 metri in su e possibili temporali sul versante adriatico. Mercoledì spazio a fenomeni di instabilità, cioè schiariti annuvolamenti e possibili rovesci nevosi attorno ai 5-600 metri, specie sul versante adriatico con un lieve aumento delle temperature. Ma da venerdì nel fine settimana potrebbe tornare il freddo. Le temperature d'altronde sono diminuite e attese gelate nei prossimi giorni e se ci sono immacabili disagi ci sono però anche buone notizie per gli operatori montani con la riapertura degli impianti e per gli appassionati dello sci. E la neve è la migliore riserva d'acqua per i prossimi mesi. Insomma, se però in alta quota si gioisce per il ritorno della neve, non altrettanto lungo le coste. Padovano del Sib continua a riportare l'attenzione sulla continua erosione della costa che divora la spiaggia. Il futuro non è certo roseo, a causa anche delle mareggiate di ieri a Pineto, Silvi, Casalbordino, Roseto degli Abruzzi, Alba Adriatica e soprattutto Francavilla al mare. Tornando alla neve copiosa è interessato in particolare i centri dell'interno, Marsica e Aquilano, ma non solo. Impossibile fare previsioni meteo a lungo termine perché, come spiega Giovanni De Palma, l'attendibilità è valida solo per tre giorni, per il resto proiezioni. Attenzione alla viabilità al ghiaccio ed ancora allerta rossa per le valanghe in Abruzzo. I sindaci con le prefetture e la protezione civile hanno messo in piedi una rete di sinergie per evitare disagi e conseguenze. Si raccomanda naturalmente anche ai cittadini buon senso.